Adesso sinceramente non lo so cosa c'è dentro, però quando i materiali elettrici di elettronica come computer tv, radio o cose varie vanno portati nei centri di raccolta del comune e vanno messi su un contenitore apposito. Non di preciso. Ci sono dei cestini apposta comunque per che si possano smaltire i cellulari. Questa qua è difficile però. So che finiscono per far l'oro o qualcosa del genere. Alcuni pezzi finiscono in Belgio, no finiscono in Belgio veramente. In Marocco? I telefoni quelli vecchi eccetera. In Africa? I materiali di solito è nickel, cadmio, silicio, plastica. Per quanto riguarda vanno a finire in Africa. Solitamente.